Uedì, riprese 29 aprile, Gemma si ritrova Carla chiude con Claudio, silenzio su Luca. Grandi colpi di scena durante le riprese di Uomini e Donne del 29 aprile. Spazio alle vicende di Gemma. Che si è ritrovata ancora una volta singola e sola. Novità anche per la frequentazione tra Carla e Claudio, per i due volti del trono avver giunto il momento dell'epilogo finale. Nel dettaglio, le anticipazioni sulle riprese di Uomini e Donne di questo sabato pomeriggio rivelano che Gemma ha fatto i conti con la fine dell'ennesima frequentazione che ha provato a portare avanti nel corso di questi mesi. La dama torinese, quindi, dopo aver messo un punto definitivo a questa conoscenza si è ritrovata per l'ennesima volta sola. Spazio poi alle vicende di Carla e Claudio, tra i due c'è stata la resa dei conti finale in studio e non è stata delle migliori. Gli spoiler delle riprese di questa settimana rivelano che Carla ha scelto di chiudere con Claudio per le incompatibilità che sono sorte tra di loro e in particolar modo perché il cavaliere le avrebbe fatto pagare la cena durante il loro incontro. Claudio, invece, ha ribattuto dicendo che la dama racconterebbe cose nuvere e così alla fine hanno scelto di dirsi addio definitivamente. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 29 aprile, però, non c'è stato spazio per le novità legate al trono di Luca da Fre. Del tronista non se ne è parlato ma non si esclude che possa essergli dedicato un blocco nel corso delle riprese che si terranno domenica 30 aprile.